Penso che sia un elemento importante dare informazione alle imprese, fare capire quali possono essere le modalità per ottenere determinati contributi e soprattutto diffondere la cultura della sicurezza. Abbiamo la possibilità di presentare il finanziamento ISI 2013 che mette a disposizione a livello nazionale 307 milioni di euro a favore delle imprese che investono in sicurezza. Quindi sono direttamente capitali che vengono erogate alle imprese che effettuano dei progetti di messa in sicurezza delle aziende.